C'è un po' di partecipazione dal basso, ma effettivamente prima ancora di qualsiasi punto di vista di un momento, non avrebbe fatto nessuno, e qui sono le ragioni che sono visto in due anni, e qui non era assolutamente il caso, il caso, che ti ha chiamato, non parlare, e poi va a sottolineare alcune politiche che mi sentono essenziali, cioè innanzitutto nel discorso di Salvatore è evidente che non parla di reotto, è evidente che non parla alla lista che sostanzialmente cerca di presentarsi alle elezioni, sì, o per due cartettici, quello che cerca di venire in una casa di tutta la vita, ma soprattutto va a rispondere di una situazione che personalmente conosciuto e apprezzato, che si guadagna la media lottando ogni giorno guadagnata centimetro per centimetro, in maniera che siamo in una situazione particolare, però guadagnarsi centimetro per centimetro a Napoli non è esattamente una massaccia di risolvere, quindi c'è un po' di questi compagni che dicono veniamo, vogliamo parlare, esprimiamo il progetto un po' di questi compagni che ci sono essenziali, sono collegati a questa situazione, allora questo è un po' di questi compagni che si riferiscono a fare in un'altra parte, non ci vado a vedere come un'altra parte, ma soprattutto la cosa che io non mi riuscivo a fare stasera la rioperazione Cassandra, cioè potremmo essere a cominciare a spiegare una serie di riume che che riguardano questo paese, che muostrano un'economia, diciamo, quello che vuole è che il gas, la caratteristica, la caratteristica, è irreversibile, basterebbe a cominciare, per toccare con la sua demografia, e che se a cui parlare di quelli, vanno di producere questi lavori, a cui avete un'idea da un'impatizzazione. Perché se non si ha un'idea da un'impatizzazione del paese, non si può fare all'economia, tantomeno l'investimento. Io vedo, io sia un po' di sinistra, ma da neanche il gas, dove riconoscere qual è la traiettora e la cultura del mondo. Parlano di divorzi, di alleanze, di presanze, di assassinati, di agli anni, curiosissimo, ma io, bravo a cantare, la sera quando si scena per la parola, è rimasto dedicato a me, è un poeta. Poi, altra questione, questo è un paese, è un tipo di economia che è giunto, è un paese per la struttura di un'impatizzazione, che è roso da processi strutturali di un'impatizzazione. Cioè, processi nuove, o cosa accade? I pressi scendono e che non riescono a valutare il salto, oppure salvo loro, e le persone in quel momento, e chiaramente, e hanno ricaricato, in un po' di pochi momenti, non riesce a perdere. Non ti intervento su questo. Sarebbe interessante, ad esempio, anche, per farci un altro, su come fatti, mezzo punto di aumento del tasso di interesse, per portare, come questo paese, di nuovo, in un po' di più, vedo così, ma vi farò una sola sola, in un po' di più. Nessuno pensa che la cosa. Certo, ci può più riuscire a armi, in un po' di più, ossia che noi siamo di fronte a un processo, ovviamente, di rinforzazione, che, perlomeno, cambierà la durata, un altro decente. Certo, vado a vedere, guardi lì, a mezzo, e faccio, cosa ce la prende, di un po' di più, qualche paura, quanta piccoli, non dicevi tagliare, niente. E, vado a vedere, nelle colonie contemporanze, io, l'ultimo assessore, è il nazionismo, ok, l'indicazione dell'Italia, a un anno, non c'è, la pensionazione, la situazione, la vita. Però, la mia, che chiede, perché, con il temporale, mi pare, si che, tutto il corpo, che sia, nazionale, oppure, lo usa, che sia, quel tipo, metodo di, il rischio, sono, decadigati, a decadir, ci sono, decadigati, si può guidare, un po' più, ai paesi che è forte sull'immigrata quindi sono tutta una serie di più città che non possono essere solute da una forte mobilizzazione istituzione questo è un elemento che noi non possiamo ma perché cerchi di favorire le mobilizzazioni istituzioni ma ovviamente è un tipo di mobilizzazione che cerca di ovviare a quelli che sono delle guadagnanze più forti che abbiamo visto in un decennio e che vedremo in maniera ancora più radicale e sasperabile da questo punto di vista la soluzione ovviamente è prendere quelle guadagnanze questo è quello che abbiamo fatto ma io vi faccio un altro esempio ma chi di noi qui dentro sa quanto è cambiata la redistribuzione del PIL dell'ultimo decennio a parte che qui da questo invece la produzione industriale è meno brezza rispetto alla domenica serbile e questo è un dato che chiaramente anche si piaccia come si potrebbe dire si va da novella e la risolta cioè quali sono le forze politiche in grado di investire questa situazione le forze politiche attualmente in campo non sono in grado di risolvere ma sono in grado di fare un'altra cosa di voltarci nel 2018 a una quale pubblica di parte perché non hanno soluzione e perché non hanno capito cioè quindi dietro la stanza di PIL dell'ultimo decennio noi cosa sappiamo? abbiamo delle forze politiche che si diranno solo di radicalizzare la risposta non può che essere di sinistra e non può che essere la base e qui vi parlerò quello che è che è un punto importante del ragionamento che c'è con i partiti cioè che parli la dividione ma la ricetta sta cominciando a fumare le cose ma la ricetta è un'altra e assicuro che non è così cioè vi parlo di un fenomeno che è di mezzo di questa cosa un terzo della popolazione realitaria quindi un linguaggio che tutti i partiti e vi dico una cosa guardate bene che la politica cioè qualsiasi che volete oggi è esattamente come i migliori che qualsiasi si adoresce almeno si parte con il livello semplice poi poi quello che abbiamo visto fino a oggi è una politica dal basso che trova il primo livello il secondo livello e poi il terzo di questi compagni è evidente è quello di cominciare il video già un po' ora la domanda è questa nel tentativo di questi compagni di salire di livello di ragione questo è una storia di un'esercizionale di un'esercizionale che io spesso vorrei che tu vi faccia il risultato tenda a far rispondere la complicità della politica di un'esercizionale questi compagni dicono dicendo guardate noi vogliamo di salire di livello di ragione ovviamente non è un'esercizionale perché il paname è un'esercizionale ma non è un'esercizionale no però cominciamo da questo cioè il problema è che a chi sia su questo territorio ci sono realtà che vogliono ricominciare questo videogioco che guardate da un videogioco l'epoca perché oggi riesce a fare politica non tanto di artigia ormai da sapere di tolice ma oggi riesce a fare politica e riesce a capire la vita della politica di un piano più semplice per cominciare poi dopo a salire sui vari complessi e solo che è ideato di fare politica dal basso salente sui vari complessi e in grado di fare politica altrimenti verrà sperto dal videogioco chiesto come caminato con quel di un'altra cosa che intesa sicuramente c'è una forte curiosità non di compagni di disasperanza ma sicuramente c'è una forte richiesta di dispone in Italia un quadro di un fattivo che cominciasse la serata molti vogliono a capire chi è disposto a questa cosa io semplicemente vi faccio spiegare questa richiesta e quindi si è disposto a entrare in un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra non ci vuole questa cosa che si chiama questa cosa delle cose questo mi fa con la data è dentro la sua bene è disposto a entrare Grazie. Grazie.